bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi perché mi dicesse perché non sono andato a scuola perché regà ho un attimo un problema muscolare molto grave quindi ho l'infiammazione però regà non vado a scuola non perché sto male perché l'infiammazione muscolare ho paura che sia grave quindi ragazzi sto benissimo però devo stare a riposo allora ragazzi cosa andremo a vedere oggi il nostro armadietto dopo un anno regà è cambiato tantissimo vi dico solo che ho 44 skin adesso tutti verranno eh shoppone eh regà non vedete di tutto a me non me ne frega più niente comunque regà io vi faccio una sfida se questo episodio del mio armadietto parte 2 arriva accendomi in piace io shoppone a skin che mi dite voi che ne so ti commenti oppure un ballo eh perché questo è pure il primo caso che figata comunque regà allora andiamo a vedere partiamo a uscire cobaleno si sono 3 bolle ci sono 3 4 4 4 è quello che c'è da quel playstation plus queste sono della 6 si queste della 6 lucciole si abbina con fiaba senza aspettare la 6 vip non mi ricordo però penso della 4 questo ce lo da con corvo femmina anche detto devastazione pittura spray 4 oltre il mare 4 e zucca di aromine stagione 6 regà andiamo subito con i realtàplani allora di realtàplani regà ho shoppato solo apparizioni bucoliche e fusione e fortività shoppato solo solo ah e anche brismatico comunque mi piace vedere sono quelli che ho shoppato oppure quelli più belli per me parizione bucolica shoppato insieme al al spaventapasseri giù che è una figata fame bello castigliatore scoperto scoperto ah legger visione furtività carbonio va che cazzo vabbè fisomatico davvero figo questo da molto nuovo cazzo eh ragazzi questi sono quelli che ho shoppato se poi vi faccio rivedere quelli da season 2 da Lix questo questo non so era della stagione sì cinque questo era della stagione quattro allora regà andiamo dalle falci qua ho shoppato un po' a sì di sì controller che fa schifo cash tonante fenicottero rosa no poi sono fison 2 inizio finale che è bellissimo bello pure questo regà stavo preso con la peste comunque regà questi sono i miei picconi il mio preferito se ve la devo dire tutta o è questo o la pala o lei o lei ma regà io direi prima di farvi vedere le skin negli zaini regà tenetevi pronti ahhh quanti cazzo ne so la voglia è il nero manager dell'amore e la pace e la pace rigerato un po' la stagione la stagione molto bella molto pizzarra a parer mio mi pare più non è scherzo però non voglio assoluto che è curdo è una stazione molto dettagliata e bella complimenti l'epic che l'ha fatta bellissima corvo ma regà carburo avete visto tutti non so non ho ancora la fase quella perché sono un hub aim questa regà prendo la skin più dettagliata di sempre cervello finito la mia skin preferita anzi no queste sono le mie skin preferite uomo di paia cioè regà vi faccio vedere i dettagli guardate la faccia io non so che più guidanti ho il cavaliere nero con lo spaventapassi vi faccio vedere guardate gli occhi al cavaliere però alla sisal tu regà ho già molto più paura agli occhi sul passo ma non è niente di che però mi piace meditore mi ricordo è stato il secondo pass è il terzo pass quando avevo questa skin avevamo fatto un duo con Anthony tortevamo sempre il tuo regà a quel tema era un hub issimo le kill ne facevo per carità perché erano pure gli altri in hub però si sono quattro in su fai gioco schifo adesso ho ripreso faccio quattro chi la partita va buono va buono mi vedo la squadra dai coccole bella ok questo li faccio vedere semplici sono quelle che ti ha scusato il mondo flex bella pure questa se fuci la guerra allora dall'inizio mi peggio adesso lo vedo come strano valchiria molto bella anche questa molto più dettagliata il nostro video una cazzata lo scuro di jay yonder adesso andiamo alle skin ebiche oh cazzo quando ce ne abbiamo ancora ragazzi questo è un po' veloce quello del pass di jay yonder di silenti camminatore donale bella donna ma non mi viene schiengando male se ci pensate mi fa altamente schifo mi spiace battola però è troppo da chianti di pelle all'inizio mi piaceva poi non la sto usando più un delete boccetto anche se si chiama fiaba lid infestazione mandalas piaga molto cupa davvero attacca i a a a a a bello la passione cavalieri a dir poco spettacolari le uniche skin prima del pass belli e dopo c'è la deriva e calami che sono fantastiche però questione di mezzanotte la skin mi rappresenta mi piace per ultimo scudierò ok raga questo è il mio armadietto adesso vi faccio vedere poi gli zanni però sono tutti quelli che hanno le mie skin quindi non sanno niente di che vi faccio vedere i miei balli cioè il mio set non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se arriviamo a 10 like, ballerò tutti i miei balli. No, tutti, quelli che ho nella postazione. Bella, raga.